Un viaggio di più di mille chilometri per imparare la rotta della migrazione, guidati da un ultraleggero con a bordo le due mamme adottive che li hanno allevati fin dalla schiusa delle uova. È quella che stanno compiendo dalla Germania all'Italia 31 Ibiseremita nell'ambito del progetto europeo Raising for Hope che cerca da ormai quattro anni di reintrodurre in natura una specie estinta in Europa dal XVII secolo. Gli uccellini, preceduti dalle due etologhe Corinna e Anne, dopo aver già percorso 88 km dallo zoo di Röseg, domani riprenderanno il volo sulle Alpi a 2200 metri. Destinazione finale, l'oasi di Orbetello. In primavera, quando sarà il momento di rientrare nei quartieri invernali di Germania e Austria, gli Ibiseremita saranno in grado da soli di percorrere la propria strada in senso inverso, senza più bisogno dell'aiuto dell'uomo. Grazie a tutti.